La parzelletta di Geppo Una guida turistica sta accompagnando dei turisti in un pittoresco borgo mediovale, no? Gli ha far vedere tutte le bellezze di sto posto A un certo punto passando davanti a una brulla spianata Si gira verso tutte le persone e fa così E infine su questo terreno Il re Beroaldo, detto lo scemo Nel XII secolo ordinò di costruire un enorme castello Allora c'è stato uno dei turisti che guarda intorno e fa Scusi, ma qui c'è niente E infatti nessuno gli ha detto Era scemo